donali per conti in sospeso con il brasiliano si reca a dubai ma non lo trova lì perché lui è già ritornato a roma senza dire niente e così va a discutere con nizar non aggiungo altro vi lascio filmati fatemi salire un commento questo cosa ne pensate noi ci vediamo un prossimo video linea dove il brasiliano brasiliano è andato a roma è andato a roma se ne scappate ma ti sembra che sto scherzando ha fatto un viaggio lui per te però io sono venuto da torino per i miei avevo i miei affari vuoi che ti spiego entra e tranquillo ti spiego come è andato via se c'è un problema dimmi come come la riserviamo questa situazione io devo aspettare e arriverà devo risolvere che deve aspettare davvero risolvere perché è perché sono questi li userò con te perché se non questi li userò con te hai capito perché metti buoni ascolto il libro